Felice, innanzitutto, perché sono arrivato e ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ci tengo perché è un club che è molto storico a livello calcistico e ovviamente a livello italiano. Ci sta il pensiero che si iniziò a parlare con quelli uruguayani, che abbiamo una squadra. È quello che mi ha spinto di più, sinceramente, perché ovviamente in questi ultimi giorni parlavo con Diego, Bodin, con Naita e mi stavano consigliando un po' di venire qua. È un club che poi è stato un periodo molto ricco a livello dei calciatori uruguayani. È una lista infinita. Quella carriera che ho fatto, l'esperienza in istituto, di trasmettere a quegli ragazzi magari un po' più giovani, di trasmettere quello che magari uno ha conosciuto a livello calcistico, dare una mano ovunque dove ci sia. Il centrale, il difensore, il centroavati, il portiere. È già la seconda giornata che siamo nel campionato, quindi abbiamo bisogno, innanzitutto, di fare i punti, di arrivare a fare un percorso che, sinceramente, che sia sempre suo, no? Già mi sono messo la maglia, quindi con il tempo adesso manca solo dare la gioia a magari quegli tifosi che abbiamo, che sicuramente verranno questo anno con noi. Spero dare il meglio, come sempre l'ho fatto. Un saluto grande a tutti i tifosi del Cagliari. Forza Castello.